Musica Bella a tutti ragazzi e finalmente benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e ragazzi è arrivato, è arrivato Un po' di tempo fa effettivamente ma io non ero disponibile Non ho potuto dargli un'occhiata ma anche per questa season abbiamo finalmente il primo teaser ragazzi La prima immagine ufficiale della season numero 7 stagione 7 ragazzi E ve la faccio subito vedere se non l'avete ancora visto ragazzi Mi tengo, mi tengo, mi tengo, mi tengo, mi tengo Sgadagangaragangam Eccola qua ragazzi Eccola qua ed è allucinante E praticamente ragazzi come state vedendo Un signore oscuro del ghiaccio Non ho in mente altro ragazzi Questa è l'unica cosa che posso capire Con le coin c'ha come potete vedere tutto in ghiaccio In realtà si vede qua sotto un cielo stellato che va a formare poi appunto la faccia Dello scuro signore del ghiaccio e tra l'altro ragazzi c'è una cosa interessantissima Se andate innanzitutto vi faccio vedere un particolare che forse non tutti hanno notato Ma se andiamo ad ingrandire la parte destra dell'immagine Guardate un po' ragazzi Guardate un po' qua ragazzi C'è un tipo che sta facendo uno snowboard sulla spalla del tizio ragazzi E se guardate bene è un'immagine molto molto particolare Perché abbiamo in mente gli sciatori di Fortnite Ma questa è una curiosità veramente interessantissima Che potrebbe rivelare già una delle skin del prossimo pass battaglia Ma come vi dicevo ragazzi Se andiamo invece avanti e guardiamo Purtroppo non l'ho messa perché sono un ciulone Vi faccio vedere ragazzi quello che ha caricato su Twitter Il signor Dave Mustard Donald Mustard Che non me lo ricordo mai Questo è un post pubblicato due ore fa Dove dice Hears waking up Lui si sta svegliando Ovviamente per lui Lui voleva intendo Lui 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 E l'altro è lui Donald Che è il creative director di Epic Games Stava intendendo Ovviamente il signore oscuro E quindi ragazzi Che dirvi Vi lascio con una domanda Dove voglio i vostri commenti qua sotto Raga l'avrete già capita Secondo voi Chi cacchio è il signore oscuro Da dove arriva il re dei ghiacci Che cos'è Fatemi sapere Qua sotto Io vi ringrazio per aver guardato Questo video velocissimo Noi ci vediamo tra poco in live Ciao 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 Ciao